Gli astrelle. Si tratta di una lavorazione di finitura dell'immobile. La posa dei pavimenti presenta maggiore difficoltà quando le misure dell'elemento da posare aumentano. La lavorazione può essere eseguita con o senza la fuga a seconda della tipologia di piastrella che viene scelta. Ad oggi questa lavorazione presenta tantissime tecniche di posa e molteplici tipi di materiali e questo porta alla necessità di avere dei posatori esperti e sempre aggiornati. Grazie